Capi, ora mettiamo tutta la roba nella rana, no? Ci ammazziamo e poi la veniamo a prendere con le acule, hai capito? Ok. Allora, io mi tolgo la divisa qua. Ho preso. Anch'io. Adò! Raga pure, cazzo. Oh, capi, ci vuole. Che ammazziamo? Che affoghiamo in acqua. Dai che alla fine posso la torcia. Ora continuiamo a fare le torce. I vestiti, capi, i vestiti. Stai posando tutto? Sì, sì, sì. Aspetta. Bella. Bella. Bella così. Bella Miracle. Sì, vieni che si abbassi sta voce. Ma aspettavo l'isciata di svegliere. E io l'ho l'isciata perché ci sono rimasto male che non ho preso il nostro. Ti ho detto perché non l'hai preso. Capi, abbassa la voce. Andiamo, andiamo. Andiamo, facciamoci ammazzare degli animali. Dove è stato? Eccoli lo squadro, andiamo qui verso lo squadro. Dove è lo squadro? A sinistra. Ah, eccolo qui. A pugni però io lo prendo. Sì, sì. A pugni, a pugni. Eh, stucine è merda. Ti cozzetto la prossima volta. Eh, che puro perversare. Ora, aspetti, capi? Ok. Andiamo a te, zio. Minchia Miracle. Minchia Miracle. Perché? per me per i tempi la donna è la nostra poppa benvenuti e se la parola di castello a comunque c'è la botola in giro preparata che muovo siamo tutti insieme dai dc cc ma lo scopo rondo b e che cazzo ah forse perchè siamo rinati tutti insieme vinci e che vedo da colpa duro per esempio modello per te per te per te prendere la mia caccia di interesse aspetta qua io voglio rendere lì e' il tempo che arriviamo si si e che figlio li ha aspettato l'ultimo per buttare la torta ma gli è rimbalzata perchè non la prendeva sennò ma che culo questo porca troia addosso ma merda segue guarda come mi è rimbalzata male guarda come mi è rimbalzata male porco cane andata andata mazza mazza raga ha visto tre quattro lisci si fila città aspetta o come l'epoca non ma se non si so bello girare fa freddo ma non fanno più a rivincita i deputati pasto barriamo il portone grosso per me non esci palaporto non è un grande ansiede io sono nudo eppure no il porto è rubato il letto un po' un animale ostile che tende a venire oh hanno accettato e all'ultimo accettato quel birro me ne favo 28 no perchè mi si è spento il joystick proprio alla partenza di okane e dagli il vantaggio se no manco adesso sei niente come state arrivando si non parata quello rano è già arrivato ciao capi perchè sei nudo qui in casa che cazzo ci fanno dove è la tua rana gabbia dove è la tua rana gabbia dove è la tua rana gabbia che è successo gabbia dove è la tua rana gabbia ora la devi andare a prendere con l'acqua che se è gol no non è vero no no però era più centrale perchè gra i perché heheheheh no guarda agli ha preso quello capo ma dove stai andando prende la rana quale rana la tua come vai a prenderla tua rana dove la vai a prendere la dove la lascia e dove tu l'hai lasciata in casa l'avete fischiata pezzi di merda un po' fai rafforzato per un'esercizio infatti per un po' eppure con qui sopra vicino a quella di supremo non ho capito pure marcheggiata bene per me per me la grande lo faceva il mio per me come sta a piedi non so se entrava per me non entrava non entrava che poi c'è pure la tua roba i tuoi vestiti perchè ti hai spogliato scusa ma capito che cazzo ma c'è non è sci non è sci